Indagini febbrilli da parte della polizia del locale commissariato al fine di individuare i responsabili del tentato incendiario commesso la scorsa notte ai danni del bar che si trova all'interno della palestra Centro Benessere Vitality. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia che indagano, come dicevamo, sul grave episodio. Gli occupanti degli appartamenti dei due piani sovrastanti il bar, per precauzione, sono scesi in strada ma sono rientrati negli alloggi quando il loro luogo è stato domato. Nessun danno alla palestra, anche se attualmente è inagibile per le conseguenze provocate dall'attentato incendiario. Le due proprietarie del bar saranno sentite dagli inquirenti. Chi ha agito l'ha fatto indisturbato qualche ora dopo la chiusura della palestra, approfittando della mancanza di telecamere esterne alla struttura e della scarsa illuminazione. La notizia dell'attentato, che si è diffusa a macchia d'olio in città, ha suscitato sgomento e rabbia. Numerosi attestati di solidarietà che si stanno diffondendo sui social network. In tanti hanno manifestato solidarietà ai proprietari e ai numerosi dipendenti dalla palestra che ha aperto i battenti poco più di un anno addietro, riqualificando una zona che danni versava nel degrado. Gli attentati incendiari a Gela purtroppo continuano senza sosta. Secondo i magistrati, come emerso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, spesso sono ragazzi ancora minorenni a macchiarsi di questi reati.